Genitori alle prese con il rebus delle tariffe da pagare per usufruire dei servizi scolastici ed uffici comunali che cambiano versione giorno dopo giorno. Il Partito Democratico di Chieti descrive una situazione caotica in città a poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico. Attualmente resta in vigore la delibera dell'amministrazione di primio che alza le tariffe dei servizi scolastici trasporto, menze e asili nido, anche se le stesse potrebbero essere oggetto di revisione come annunciato dal Comune per non pesare troppo sulle tasche delle famiglie. Ma è proprio questa indecisione, secondo i consiglieri comunali democratici, a creare problematiche ad uffici e genitori. Alcuni uffici, cioè quelli del Comune, dicevano di pagare la cifra dell'anno scorso mentre se andavi a te dei servizi per pagare, giustamente non avendo annullato la delibera rimanevano in vigore gli aumenti che sono stati fatti nel mese di maggio. Oggi invece la versione cambia, oggi si dice di aspettare dopo le ferie che forse qualcosa cambierà. Ma questo è veramente inaccettabile perché si va a incidere sulle scelte delle famiglie. Alcune famiglie hanno deciso di non iscrivere i loro figli al tempo pieno perché non si potevano permettere di pagare il costo del pasto così come aumentato. Allora mi chiedevano se poi cambia la tariffa il giorno prima dell'entrata della scuola io posso iscrivere il mio figlio al tempo pieno? Questo è il caos che si sta generando. Come chi non sta iscrivendo i figli al nido perché si è raddoppiata la tariffa? Quindi veramente l'amministrazione comunale va in ferie e i cittadini vengono lasciati da soli senza una decisione.